Mi sentite? Ecco, sono Elvica Agostini, volevo rispondere a Giovanna Vitale. Gio, il fatto che oggi in Rai uno sparuto gruppo di persone stia provando a mandare in onda i telegiornali dà il senso che in loro c'è una questione politica. Noi facciamo delle battaglie per i diritti, loro fanno battaglie politiche per difendere dei privilegi che evidentemente in questo momento stanno avendo e legittimati dai vertici e dai direttori. Io faccio parte del CDR di Renews24 e posso rispondere a Tom di quello che è lavoro al politico, tu lo sai bene Giovanna, da più di vent'anni e non ho mai subito delle pressioni e delle censure come quelle che sto subendo in questo periodo. Noi non abbiamo dato la notizia di Lollobrigida in treno se non dopo molte ore, è la fermata del treno se non dopo molte ore, dopo che il CDR di cui faccio parte aveva scritto una notizia di Gian Bruno e delle sue esternazioni se non dopo molte ore, dopo che il CDR aveva preso un'iniziativa politica, era finita in due righe in fondo a un pezzo. Noi non abbiamo dato notizie di Gratteri, è quotidiana questa cosa, mentre diamo notizie. Io ringrazio i colleghi che hanno ritirato la firma su tanti servizi, alcuni appunto sono qui, perché quello che dobbiamo fare è sicuramente aprire i servizi con Giorgia Meloni, di cui il Telegraph dice che è grande statista, una notizia di cinque giorni prima. Questo è quello che stiamo cercando di fare.